Ciao ragazzi, ben ritrovati, siamo qui con la quarta sfida da provare Insieme, vediamo se riusciamo a passarla a questo giro Ci servono tre vittorie su cinque partite Paris Saint Germain ragazzi, Paris Saint Germain Vedo un Casemiro nelle maglie dello spogliatoio Ok, Rashford, quello del pacco che abbiamo adesso tra l'altro Mbappé, Messi, Gavi, Musiala, Casemiro, Cucurella E in realtà sono tre difensori centrali, Skriniar, Van Dek e Koulibaly Formazione interessante, ma abbiamo visto di peggio ragazzi, abbiamo visto di peggio Ci sta mettendo un po', non so se sta cambiando qualcuno Ho visto in panchina tra l'altro Neymar Ah, c'è anche Cialanoglu, forse quello del pacchetto Inter Visto che ho notato che ha Skriniar, quello del pacchetto che abbiamo anche noi Il pacchetto Derby Probabilmente lo Skriniar del pacchetto Derby è uno dei difensori più forti in circolazione Non ve lo nascondo Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da casa E ben ritrovati in quella che è la prima partita di questa competizione Non è più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il rodaggio Ci siamo ragazzi, siamo noi a cominciare e via Una vittoria oggi sarebbe importante per partire da un'altra parte Subito per cominciare, mamma mia Bravo Brozo Prova da rientrare qui In qualche modo Bella questa uscita Con Ciala che serve ancora Brozo Che non riesce a cambiare direzione in tempo Ci stava fregando ragazzi perché lì L'avevamo capito ma Abbiamo anticipato troppo se così si può dire Questa serie di passaggi veloci Non va come speravo Ah brutta storia anche per noi qui Mamma mia ragazzi che gol che mi ha fatto questo Gavi Festeggia giustamente perché Non siamo riusciti a fermarlo Tiro a giro in realtà Non proprio angolatissimo ma Sta di fatto che Non va Mamma mia Luca va a coprire un pelo qui Speravo fosse fallo questo invece no Ancora non riesco a passarla di prima Mamma mia che brutto stop Questo di De Vrij Onestamente Metti un bel cross Mamma mia ragazzi Mamma mia Lui con Cucurella qui che Io faccio una bella giocata con Luca con bel pressing E poi invece Bravo Di Marco invece a recuperare Passaggio di prima che Non va Purtroppo Mamma mia in qualche modo Ho fatto il passaggio Quell'attimo Di ritardo Purtroppo Mamma mia che regalo Che abbiamo fatto ragazzi Mamma mia E ci è andato bene Lui questo bravissimo Ad anticipare con No perché non ha passato questa palla Che peccato Ragazzi Vai ragazzi Andiamo in contropiede Oh che peccato ragazzi No dai però Dovevo annullare in qualche modo La Non ci credo Don Fris si è fatto trovare Fuori gioco E mi sento di andare Offensiva qui Dai basta Fatti rispettare Meno male che ho fatto Il passaggio lì indietro Ragazzi Continua a giocare Molto bene il pallone Fino a che Brutto questo movimento Di Sembrava che stessero Per concretizzare Se iniziata bene Dovranno riprovarci Prova a darla profonda Nello spazio Evitiamo che il cross Arrivi al centro Brutto brutta brutta Lui è bello forte ragazzi Dan Fris non mi deludere Si sente proprio ragazzi Tutta la lentezza Dei nostri Quando Andiamo a fare una giocata Diversa Non riesce a mantenere Qui fallaccio Di 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 Marco Cambiato tiratore Non credo voglia tirare Da lì Onestamente Mi sembra Un po' troppo Bellissimo ragazzi Abbiamo visto Lukaku Che ha fatto Capolino Tra i difensori Barella Ha seguito Abbiamo potuto Fargli l'appoggiare Facile Di un ottimo Contrattacco Ci hanno sicuramente Lavorato in allenamento La transizione Tra un momento Difensivo E offensivo E' stata veramente Molto fluida Perfetta parità dunque E tirò bene Di Marco Perfetto Barella No ragazzi Come l'ha fatto sbagliare Non ci credo ragazzi Non ci credo Era praticamente A porta vuota Cross perfetto Di Di Marco E Barella Di testa La mette fuori Non ho parole ragazzi Potevamo chiudere Il primo tempo Con questo rimontone E quindi Alla fine Del primo tempo Siamo sull'1-1 Bravo Barella Qui in inserimento Bare Scendi Metti un bel cross Per Lukaku Ed è 2-1 La ribaltiamo Ragazzi Nei momenti importanti Si fa sempre Trovare pronto Doveva solo Appoggiarla in porta E' stato lasciato Troppo libero Qui vorrei sottolineare L'assist incredibile Ah non va dove deve Ma invece poi Però se la riprende E a lui non è rimasto Che a depositare Il pallone in porta Sono in vantaggio Di un gol Rimonta Meritatissima Ma ora devono fare Attenzione A non vanificare Il vantaggio Bravo Danfris Che Si propone ancora Scende Danfris Metti un bel cross Danfris Se ne va ancora Cross al centro La rovesciata Non è finita Per Lukaku Non riusciamo In nessun modo A uscirne Mamma mia Qui il pressing Nostro E' asfissiante Che giocata Ancora Barella La mette al centro Arriva Lukaku Ed è 3 a 1 Ragazzi 3 a 1 Qui sto lasciando Offensiva Di proposito Perché mi sto trovando Nuovamente benissimo Ragazzi E' offensiva Allora Mamma mia Ragazzi Mi sa che lui Forse è abbandonato A sto giro E' stato un assedio In questo secondo tempo Gli ha fatto Un bel gol Che era più frutto Di una Una bella giocata Diciamo individuale Perché lì Gavi Salta due Nei miei difensori E poi Tira a giro Ma I nostri gol Sono tutt'altra Tutt'altra pasta Ragazzi Tutt'altra pasta Gioco di squadra Fino ad arrivare Sotto porta Dove Chi segna Deve semplicemente Appoggiare in porta Questa è un po' La filosofia Di questo Di questo canale Ragazzi Di avversario Che ha abbandonato Prima vittoria Super veloce Possiamo saltare Subito Alla seconda Sperando che sia Un'altra vittoria Ovviamente Ragazzi Impressionante Quanto Si senta poi Il supporto Dei Dei terzini In fase Offensiva Ovviamente Una volta che si mette Appunto In modalità Offensiva È troppo Perché ovviamente Aiuta a tenere Cioè paradossalmente Abbiamo qui Halasir United 2682 Come punteggio squadra Dicevo Paradossalmente Aiuta a difendere Perché Anche quando lui spazza Avendo i terzini alti Sembrano già pronti Lì a intercettare A far ripartire L'azione offensiva E quindi Si finisce per opprimere L'avversario Questo è un po' Il Il sunto poi Ecco qui Un avversario Con un sacco Di leggende E di Big time Epici Rummenig Che mi fa tanto Gula Rummenig Rumarion Va appena avanti Mamma mia Beckham Unico No non unico Centro di questa centrale Ma posto al centro Diciamo da solo Cioè Matthaus Vierat Quindi vuol dire Che lui Ricoperà tutti i palloni Possibili Arnold Van Dijk De Ligt De Ligt Ragazzi Non lo so Non so se perché Ho ancora La In testa La sua Le superstazioni con la Juve Ma non mi dice nulla E poi va bene Roberto Carlos Alisson Come scelta del portiere Ben trovati amici da casa All'ennesimo capitolo Di una competizione Che ci ha già regalato Tanti colpi di scena Momenti salienti Un torneo Che vede Contrapposte Molte squadre Nel tentativo Di ergersi Sopra le altre La seconda Potrebbe essere La nostra seconda vittoria Portarci quindi A meno tre Dal completamento Di questa Sfida Romario che va Tutto lì Lo stavo seguendo Ma Non ci credo Ragazzi Mamma mia Mi è andata Di lusso Che errore Che stavo facendo Un po' di Di caos Qui Gli è andata Anche a lui Di lusso A questo punto Io devo mettere Offensiva Mi sono finalmente Ricordato Non c'è dubbio Rumenig Roberto Carlos Si fa trovare Al posto giusto Al momento giusto Cialanoglu Palla filtrate Per Lukaku Nello spazio Cerca l'idea Lukaku Può liberare il tiro Mamma mia Qui Cialan Non fa la scelta giusta Ma Di Marco Ah Peccato Qui per quest'altra Per quest'altro errore Mamma mia Ragazzi Mamma mia Peccato Che non è riuscito A tirare Perché questa Stava venendo fuori Come un'azione Non bella Ma di più La pesce prima È libero È libero Lukaku Non ci credo Lui riesce A evitare Che la valla Lettramente Vada in porta Ancora Devrai Monumentale Eh no Quello stop Che ha fatto Lautaro In più Ovviamente È costato il fuorigioco Anche se c'era Cialanoglu Che stava arrivando Indemoniato Correva Come un forsennato Ma non l'abbiamo visto Purtroppo Di lancia lungo Brutto Questo intervento Molto brutto Ancora un altro errore Ma Brozo Di forza Che riesce A servire Barella Non riesco A calciare Ragazzi Per un pelo Qui Mamma mia Qui è fallo Ma Per fortuna Regola del vantaggio Riceve un pallone Interessante Pallone Interessante In verticale Da lì può Segnare Effetto al cross Mamma mia Che brutta Qui la presa Di Di Onana Onestamente Non riesce Qui neanche Barella A uscire Lui in realtà Si ritrova Abbastanza Bene Qui Scrinola Fa il lavoro sporco E ci fa guadagnare La rimessa Al fondo Ragazzi Un po' Rischiosa Ma In qualche modo Ne usciamo Buona la palla Per Ciala Eccolo Mamma mia Lui ha sposto Le portiere Prima di Stato Intelligente Io non ho Sono stato Abbastanza pronto Da cambiare E finisce Rimessa laterale Che peccato ragazzi Che eravamo Da solito Avanti a portiere Lì Sempre così Ragazzi Non posso mai Ripassarla Io con l'Inter Questi ragazzi Perché C'è sempre La fine Di Hai di Marco Fatti valere Dove è passata Questa palla Non lo sappiamo Ma alla fine È nostra Quindi va bene così Bravo Dunfries Che offre L'appoggio Sulla destra Eccolo Il cross Per Lukaku Mamma mia Ancora Brividi Palla che in qualche modo Finisce ancora Dunfries A spazio Con il destro Calcio d'angolo Eccolo Cialanoglu Dai Bastoni Vinci Questo contrasto Una palla per Lautaro Martinez Ancora Mamma mia Ragazzi Non è finita E lui che rilancia Bravissimo Di Marco Ancora A vincere Questo pallone Ah qui Mamma mia Mamma mia Cialanoglu Brividi Me la sono sentita Ma qui forse La scelta è sbagliata Ragazzi Perché avrei dovuto Fare secondo me Il tiro Quello caricato Forte Non quello a giro Valla che passa Che passa comunque Peccato Bravo Eccolo Mario ancora devrai incredibile no perchè non mi puoi arbitro fischiare però nel bel mezzo sono sulla tre quarti diavolo non puoi fermarmi così eh ragazzi l'apporto anche il supporto che danno ovviamente barella e c'erano in fase offensiva con la modalità ah qui bravo ciala che prendi questo pallone bravo ciala questo cross il portiere che esce in qualche modo so perchè si è fermato ragazzi non me lo chiedete perchè non lo so è qui errore mio eh si passava questo trucco sotto per Lukaku forse staremo parlando di un gol qui e sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita ancora nessuno con i rivali lui in pausa io penso che posso dire ancora un po' di più che posso dire ancora un po' di più se sta cambiando qualcosa a questo punto i nostri ce la fanno ok appena finito vediamo se la tattica bastoni la tattica Giego non si può portarci in vantaggio mamma mia e bastoni bastoni di destro su passaggio di Dumfries ho provato a cambiare strategia a questo punto e direi che è andata come doveva andare non era per lui ragazzi ho visto Barella che era partita infatti ho provato a dargli una buona questa palla allargata per c'è Dumfries libero ma lui non ho capito se ha staccato o cosa no ragazzi cominciamo con questa storia dei cheater che brutta cosa ragazzi che brutta cosa ragazzi eh c'è un motivo no se sei primo prima di tutto la trentaseiesimo nel mondo perdi contro di me che sono scarso c'è un motivo no ovviamente che peccato ragazzi tempo perso praticamente veramente tempo perso purtroppo e niente ragazzi finisce così una vittoria veloce e una partita bloccata da un cheater io vi ringrazio per aver guardato e ci vediamo alla prossima